sono caramelo massimo torre il vostro insegnante di musica buongiorno a essere musicali come vi dicevo nell'altro video con nel quale vi ho fatto vedere il flauto a stantuffo che combinava tutti i suoi strani movimenti anche con la voce possiamo giocare e fare questi giochi allora immaginate una giornata ventosa col vento che passa attraverso i canali e le montagne e noi possiamo produrre questi suoni andiamo insieme non ci avete provato dai provate da soli conto fino a 5 le avete fatti facciamolo ancora un'altra volta insieme via se siete a casa con gli amici col papà con la mamma fate la gara a chi inventa i movimenti sonori più pazzi del mondo buon divertimento da carmelo massimo torre il vostro insegnante di musica